Che purtroppo, e questo mi dispiace, quelli che vivono in città non si possono permettere. La città restituisce questa grande urbanizzazione che abbiamo fatto e il cemento, il calore del cemento. Io per lavorare ho vissuto anni a Milano, so come si vive nelle città e capisco quelli che devono andare comunque, come o senza soldi, in vacanza. Perché lì si muore, qui da vacanza, io abito in vacanza tutto l'anno. Quindi, ritornando al video, veramente, ne ho lette di quelle pazzesche, che adesso in questo momento non mi vengono in mente, perché sono troppo concentrato su questa cosa che mi ha stranito. Uno dei miei video ha fatto bloccare su TikTok, pazienza, TikTok mi ha scritto, mi ha detto guardi, non le blocchiamo il profilo, questa è solo una munizione. Io gli ho chiesto che voglio un colloquio con loro, perché non so se sarà possibile, ma vorrei dirgli, ma veramente, parlando di idioti qui, ci dobbiamo mettere un po' di tutto. Perché le pecore che vivono in questo, ma mica sono Patrovi, Pavlo, che prendeva i cani per studiare i cani. Voi non lo sapete, idioti, ma tante cose che voi applicate oggi con i cani, che credete che il cane vi ama, sono riflessi condizionati, che uno che studiava gli animali, ed era uno molto cruento, ha capito schiavizzando dei cani. Lui li metteva in una camera, voi li tenete in un appartamento, lui li faceva delle cose, voi gliene fate degli altri, siete quasi a livello di Patrovi, Pavlo, solo che con la parola amore vi siete puliti la coscienza. Che bisogno ha un cane di vivere da cane, di poter pisciare e cagare quando vuole, di poter fare le buche nella terra, nella sabbia, di poter riprodursi, almeno qualche volta, poverino, visto che è prigioniero di un padrone, di poter interagire e litigare con gli altri cani. E quando mi è sprovato a mettere qualche volta nel branco cuccioloni che litigano fra loro, hanno scritto, bloccatelo, ogni tanto mi scriveva. Pensate che mi ha anche scritto YouTube, il quale mi ha detto che quando sono nato in India, Varanasi, a fare questo studio, che i cani se li mangiano i cadaveri, ma mangerebbero qualsiasi padrone di quelli che prima amano, i padroni muoiono dopo due o tre giorni se nessuno li soccorresse, sono animali, la natura li ha voluti così. Se la prendono come dice Maria Romano, ma se volete prendetela con la natura che ha creato la natura. Io cerco solo di studiarla, di leggerla, di rivolgermi a un pubblico che non siete voi. Voi idioti, una volta io vi bloccavo tutti, non vi voglio più sulle mie pagine, non so più come fare a liberarmi di voi. Siete come le mosche adesso, vedete, non mi arrivano mosche continuamente. Voi siete uguali, ma chi vi vuole? Io ho decine, su certe pagine, centinaia di migliaia di voi, allora ne vorrei cento convinti e con loro si cambierebbe, non dico il mondo, ma gran parte dell'Italia. Solo che la percentuale di persone che vogliono impegnarsi, studiare, fare, diciamo, un'opera attiva di proselitismo supportato da riscontri scientifici, ce ne sono pochi perché tutti hanno la passione del cane e se si mettono a fare la professione, purtroppo mangiano anche loro quegli idioti. Anzi, ci sono cinofili specializzati a trattare quegli idioti, che li convincono che la loro idiozia non è vera, che sono le bugie quelli che raccontano gli altri e questi in cambio di questa integrazione sociale li pagano e quindi vanno avanti. Gli idioti sono gli stessi che servono a dire che le crocchette sono meglio della carne normale, quelli che dicono che bisogna cucinarle in questo modo, sono quelli che vanno nei negozi per idioti e comprano di tutte le cose più inutili che esistono per animali, loro le comprano, quando san benissimo che quello non allieverà la sofferenza di animali destinati a, a volte già a nascere in posti non da animali, da vivere un'esistenza come animali. Allora, ho fatto questo video così in conclusione per dirvi, ma io vi do un consiglio sinceramente, ma non a voi idioti, perché intanto voi non lo reciperete. Adesso parlo alle persone, diciamo, non gli idioti gravi, solo quelli che ci hanno creduto. Ma voi cercate di studiare un po' di cinofilia, cercate in qualche modo di capirle voi le cose, di non dar retta degli altri.